Io cliente, se stasera guardando un film mi ricordo che domani voglio andarmi a tagliare i capelli non devo preoccuparmi domani mattina di chiamare ma al momento apro l'applicazione e mi prenoto il mio appuntamento perché l'agenda del mio parrucchiere ce l'ho online quindi la posso consultare in qualsiasi momento questa è una cosa fortissima perché spesso io cliente penso che domani devo chiamare ma poi lo dimentico e mi è passata un'altra settimana invece farlo immediatamente è un appuntamento e poi tutto in uno quindi l'appuntamento lo prendo, tiro fuori la sua fisce lo completo con tutti i servizi che abbiamo scelto uscita i miei clienti quando abbiamo comunicato che avevamo voilà quindi questa novità dell'agenda online la prima cosa che hanno detto è wow, prendo un appuntamento e ti arriva un messaggio di conferma figo te lo ricorda? figo mi posso pronotare l'appuntamento in qualsiasi ora? figo questo è quello che ci hanno detto i nostri clienti e questo penso che sia oggi un servizio importante da garantire lo strumento voilà è uno strumento di cui noi abbiamo assolutamente bisogno e poi voilà un po' come è stato con gli iPhone quindi come la Apple è intuitiva quindi la scopri poi giorno dopo giorno e se hai qualche dubbio c'è una chat mandi un messaggio e ti rispondono subito